Ciao a tutti, oggi prepareremo la ciambella ai tre cioccolati. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 20 minuti circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, burro morbido, zucchero, cioccolato bianco fuso, cioccolato fondente fuso, cioccolato al latte fuso, uova, latte, lievito per dolci, vanillina e un pizzico di sale. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le uova e reazioniamo il bimbi per 5 minuti a velocità 5. Aggiungiamo il burro e la vanillina ed azioniamo il bimbi per un minuto. a velocità 5. Aggiungiamo il latte, la farina, la farina, il lievito, un pizzico di sale ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Trasferiamo il composto in tre ciotole dividendole in parti uguali. Adesso trasferiamo i vari tipi di cioccolato, uno per ogni ciotola. Amalgamiamo bene il cioccolato all'impasto e proseguiamo così per le altre ciotole. Dopo aver amalgamato bene i cioccolati negli impasti, adesso abbiamo imburrato uno stampa a ciambella del diametro di 24-26 cm e proseguiremo la ricetta mettendo gli impasti con quest'ordine. prima il cioccolato fondente, poi il cioccolato al latte e infine il cioccolato bianco. e poi facciamo un po' di più. adesso andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 50 60 minuti circa fare sempre la prova stecchino la torta è cotta lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo ciambella ai tre cioccolati grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti